Bella ragazze e ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, supporto a un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Sì, sì, sì. Grazie a tutti 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 Ultraistinto proprio Ultraistinto Ultraistinto cazzarola Oh my god Ciao YouTube Xd Xd